Cosa ne pensi della partita oggi? Scusate, fanno loro. Prima io sono veramente orgoglioso di tutti i miei compagni di giocare con te. Dopo mi paghi, dopo l'intervista. Però no, alla fine sono molto contento e come ho detto non è la finalità. La finalità è domenica. Nella sua domanda a Paul? Paul no, ma veramente dopo una vittoria così contro la Germania, che è campiona del mondo, che aveva eliminato la nostra Italia, che noi eravamo veramente tristi per tutti i nostri compagni. Adesso ci hanno chiesto di vincere contro la Germania, l'avete fatto. Cosa vuoi dire? Io voglio solo dire che penso che ho ricevuto l'energia di tutta l'Italia, di tutte le persone che mi hanno detto dopo la partita dai, andate a vincere contro questa squadra. Ho ricevuto questa energia, abbiamo fatto bene oggi, però non è finito, non è finito. Penso che dopo o dopo dobbiamo vincere. È bello di vincere contro la Germania, appena non è finito. Dobbiamo vincere contro il Portugale la finale. Questo è importante. Esatto, esatto, perché anche Paul aveva comunque la pressione di tornare presto a Vinovo per correre. Cioè, questo era importante vincere oggi per avere una settimana in più. Questo è un piccolo messaggio a Mister Allegri, a preparatori. Una settimana in più. E senza dire niente? Senza dire niente. Noi abbiamo giocato comunque con questa motivazione. Va bene? Noi. Noi. Noi.